Ciao ragazzi, benvenuti su Xenoverse per Aspera D'Astra La scorsa volta ci siamo fermati a Borgo Gemini E ora Bosco Stella Filante, giusto? Bosco Stella Filante, un'oscura selva gremita o gremita? Penso sia gremita di insetti Ah, non è un allenatore questo? Non l'ho mai visto con gli otteri come quelli Sembra che ci sono, sembra che siano simili a quelli di Unima Abbiamo una bacca pesca perché ci avveleneranno sicuramente qui Una roccia piena di muschio che sia per far evolvere Eevee All'ogni modo mi sono un po' allenato in questo boschetto a dire il vero Ma non ho combattuto contro nessun allenatore Infatti sono rimasto solo nell'erba alta Dato che Bunny si evolve al 21, direi di portarla al 21 Sì è una femminuccia, è ghiacciata, non si apre What? Sul serio? E non posso neanche, che ne so, usare un Pokémon Fuoco volendo Non mi dà l'opzione, forse non avendo... No, ce l'ha un Pokémon Fuoco Devo metterlo davanti? La cosa carina di questo bosco è che C'è la neve, ma sembra che siano cumuli di ragnatele È molto molto bello Ragnatele o comunque sia baba di Pokémon a questo punto Ci siamo signori livello 21 Pronti all'evolution? Vuole imparare doppio calcio? Mmm, ok Ok, ok Dai Sì, dai Veloce Eccolo Bello Kung Fu Ovviamente Fu per il pelo Sì è abbastanza peloso Bene, mi piace, mi piace Qui ci segnano anche le Heave e le Heave Oddio Con le Heave non siamo messi male, eh 28 di attacco è buono perché è un Pokémon attaccante Oddio, due in difesa speciale Va bene Però è più forte di Yemin, quindi ci sta Se mettono davanti... No, neanche Elekid davanti serve a niente Allora, pensiamo un po' un attimo Mettiamo Tianlong davanti E proseguiamo Visto che quella non si può aprire Neanche questa, a quanto pare Perché tanto è ghiacciata Qui invece cosa abbiamo? Immergendosi in questo momento E i Pokémon rischiano di rimanere avvelenati Perciò cerco di attraversarla in fretta Eh, vabbè Mi ricordo una meccanica di un gioco molto particolare Dark Souls, qualcuno? Allora, penso che ce la facciamo Sì, va bene No, cosa c'era lì? Perché si è bloccato in mezzo al sasso? Ora ho capito che era un sasso Prima no No, ma poi si avvederanno piuttosto in fretta Anche in base a come cammini, sembra Allora Io veramente però vorrei andare anche di là, no? Calmati Mi chiedo cosa ci sia di qua però prima Di proseguire per l'altra parte Solo da contorno la vegetazione? Ma che cosa? Abbiamo lì Pokémon? Ma che... Non ci sto capendo niente Ok 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 Capisco Lì c'era... Cosa? Scusami? Scappa Eh, vabbè Eh, ma i ragni stavano anche di là Quindi sono ragni questi Galvantula? Ma siamo seri? Ma di che stiamo parlando? Oddio, bellissimo Il boss Galvantula Ma si potrà catturare? Perché ci sono alcuni Pokémon Che non si possono catturare Questo... Boh, non lo so raga Allora, mando Sayanide, no? Allora, Sayanide non lo sto allenando per niente In questo momento lo tengo nel team solo come foraggio Questo Galvantula dovrebbe essere ghiaccio Coleottero forse Non ne sono sicuro, eh Non lo so Però mi dà quell'impressione Sapete cosa? Aspetta Dato che non posso attaccare Aspetto che mi faccia fuori appunto Sayanide E ok Cavoli però Se fosse catturabile Lo voglio in squadra assolutamente ora Però Quei piccoli Oddio Com'è che si chiamano la pre... Com'è che si chiama la pre-evoluzione? I Joltik Erano anche di là Per questo ho deciso di andare qua sotto prima Però è molto, molto strano Cosa? Ma che... Ma che attacco... Ehi! Ma che attacco gli ho fatto? Come attacco rapido? Dannazione Devo fare bruci tutto fatto attacco rapido per sbaglio Buono Cavoli però Ce le sta prendendo di botte Endeavor Allora a questo punto gli togliamo una barra di vita Perfetto Buono Però ci crepiamo anche Non sembra Ma Phantom È molto forte Quindi Spettro Tuffo Che è un attacco fortissimo tra l'altro Dovrebbe riuscire a mandarlo in range di... Cattura Palmo forza ancora L'acerazione dovrebbe reggerlo Se non è brutto colpo E voi Grande Grande Ok possiamo provare a catturarlo ora Wow Se ci riusciamo proprio al pelo Se si può catturare è ovvio Non è ancora abbastanza debole ma Scintilla Sì l'acerazione gli fa un grandissimo danno Perché l'acerazione è forte Ok Ok ora ci siamo Vai Preso Calvantula Non credo che le catture siano al 100% con Xenobl Però devo chiedere comunque sia Anche ai programmatori Vediamo Quell'ottero ghiaccio Oddio un doppio typing che prende le botte dal fuoco come non ci fossero domani Ma se la cava Pokémon ragna gela Congela l'aria circostante e la sotana Intrappola le prede in una spessa ragnatela di ghiaccio portandole lentamente all'ipotermia Ecco perché c'è il ghiaccio qui E se potessimo aprire le Pokéball congelate con Galvantula Masaku Ora sarebbe da chiamare Masaki Allora Galvantula Ora che ti ho catturato Libererai questi bambini intrappolati Aiuto un ragno Eh sì me ne sono accorto Grazie grazie di averci salvato Eramo venuti a fare un picnic nel bosco Quando l'aria è iniziata a diventare giarida Dopodiché non ricordo più nulla Ah ma ora posso aprire le Pokéball Perché è tornata L'aria fresca Quindi normale Quel Pokémon che ho intravisto poco prima di sbagliare Deve averci ricatturato Chissà quanto saremmo rimasti qui se non fossero arrivati a soccorrerci Scusa ma ora devo tornare del mio fratellino Non venendomi tornare si sarà preoccupato Se passo da Borgo Gemini ti vengo a trovare Ok questa mi dà una bacca Quindi devo tornare a Borgo Gemini Ah c'era quel piccoletto che mi ha retto del fratello In effetti E lui mi dà gran Inoltre questo bosco ha tanti segreti da nascondere Bene 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 Allora me lo golerò un pochino Ah da percorso 6 quindi devo andare di là in effetti Sì perché dovevo esplorare ancora un po' La foresta si è improvvisamente infarcita di allenatori che vogliono combattere Ah va bene eh per carità Però così all'improvviso Appena il boss viene sconfitto Nel percorso dove prima c'erano i Joltic Ora ci sono dei ricercatori e quindi Niente bisogna continuare per di qua Fino a che non si arriva alla città A Virgopoli Interesting Io ero accampato qui in tesa che passasse qualcuno Ora viene da lotta Questi A caso vogliono lottare a tutti i costi Proseguiamo allora Altri allenatori Vediamo un attimino cosa c'è qui Baccafico Ok Non è che me ne faccia qualcosa eh però Ah di là si arriva per la città scommetto Di qua è bloccata la strada Però abbiamo il Perseum N che ci rompe questa roccia E ci permette di raggiungere la MT62 Buona Questa è da insegnare assolutamente Ok prima di arrivare alla città Affrontiamo anche sti tisi Sta marinando la scuola Non vuole diventare uno stupido secchione Ma uno tosto Se vuoi diventare uno tosto vai a scuola E ha un consiglio da amico Oh ma qua è la sagra dei Pokémon Elettro Mi stai dicendo che la prossima palestra Avrà Pokémon Elettro per caso? Bene manca solo lei prima della città Quindi affrontiamola Brianna Sobrare quel bosco in silo se è stata dura Fammi riprendere un po' con una lotta Tu ti riposi facendo le lotte Lei è un hipster? Sì Oh finalmente qualcosa contro cui siamo forti Bene ragazzi andiamo alla prossima città Regno di Virgopoli Con le mucche al pascolo La gente anche sta pascolando Io che prendo danni Oh mio dio Orsuk adesso è il regno di Virgopoli Eh vedo C'è un posto dove io posso curare i miei Pokémon Cavaliere? Sì Eccolo qui Mamma mia che bello raga Posso venire a vivere qui? Mi piacciono I posti medievali Però con le comodità moderne Sono un po' strano Accetto un regalo di benvenuto Perché è la tua prima volta a Virgopoli Ora mi spiego le mucche al pascolo Qui c'è una palestra E questa persona è rimasta bloccata in casa Non potrà uscire Mi dispiace La principessa Mimosa ha tutti i giocattoli più belli Quindi mi stai dicendo che Mimosa è tipo la capopalestra Ok allora prima devo un attimino interagire con questo personaggio qui E abbiamo Pokémon qui Oh mio dio Chigami Ah un Pokémon basato sull'Origami E' tipo una specie di falena Forte Molto carino Sì magari una falena Un tapano Roba che si trova in mezzo ai campi insomma Direi di parlare Allora con i menestrelli qui Sta suonando il flauto Le percussioni E la chitarra Niente non possono interagire con me Un giorno la principessa mi convocherà Accorti abbiamo palloncino? What? E' una cosa molto buona palloncino Attenzione Da quando a corte è arrivato quello smirgole è come se noi cuochi non esistessimo più per la principessa C'era uno smirgole che mi sembrava una specie di pasticcere in effetti Ragazzi io a questo punto direi di provare ad entrare Sì Non ci sono problemi a quanto pare Questa Giardini reali Ci sono i Pokémon selvatici Va bene Ma la principessa Penso che sia una allenatrice O la capopalestra Dirla tutta Perché no? Mi sembrava ci fosse qualcosa Ma no Questo è un labirinto Quindi nulla Ecco questa è la palestra Palestra zucchero Mimosa Come il dolce Giovane dolcezza Alla guida di un antico regno Allenatori certificati zero Allora saremo i primi? Ehm Qua guido Benvenuto nella palestra del regno di Vergapoli Mi domandavo quanto ci avresti messo Vuoi sapere chi io sia? Ma a che scopo? Ti basti sapere che faccio il tifo per te Non è che alla fine è il nostro padre Ti immagini? Mimosa La capopalestra Adora i Pokémon Folletto Come sovrani Sono vulnerabili a veleno e acciaio Per scelare la principessa Però dovrai prima dimostrare il tuo valore Con tre prove Ti auguro buona fortuna Ehehe Salve forestiero Non ho letto Oltre a questa porta Tre hard prove battendono Del fuoco è la prima La soglia varcata Tornare sui propri passi non si puote Siete pronto allenatore? Indie andate E chi il fato vassista Nell'arena Siamo nell'arena Ma c'è anche un tisio del team Dimension Ma chi è l'erce questo? Porca miseria Benvenuto Procedo a illustrarti il regolamento previsto Per la prova del fuoco In qua Armando Dove sono i dolcetti che ti avevo chiesto? Oh mio dio Ehm Li avete già mangiati tutti principessa Me ne voglio ancora Smirgola altri bigliet Se uno Smirgol Ti fa apparire dei bignè dal nulla Ma quel Allora Un attimino Se di Smirgol Fa apparire dei bignè dal nulla Lo voglio assolutamente Ma nella vita vera Magari no Magari Non ne abuserei Però lei sta seduta sul trono di spade Così sembra Su Continuate Nel suo ordine Il regolamento della prova del fuoco Prevede che il pretendente alla medaglia Affronti la belva Punto primo La belva non può essere catturata Punto secondo Non si può fuggire dalla belva Fine del regolamento E entri la belva Ma è Drudigon Perché la prova del fuoco? Livello 30 Io sono di tipo Drago Ma mi fa il culino Oh Ferrartigli fallisce Va bene Poco male Poco male Questa musica la conosco Ma non mi ricordo Da quale gioco era Sì ok Comunque Abbastanza conosciuta Oh buono Buono che l'abbiamo paralizzato Con Drago Spiro E ora lo finiamo Con Drago Spiro Vai baby Però mi aspettavo La prova del fuoco No sai Non vuol dire nulla Ma può anche dire Ehi C'è un Pokémon di fuoco Che ti aspetta Meglio così A dire il vero Meglio così Questo sta mangiando i dolcetti Armando Ora che è finita la prova Che si fa Posso tornare A mangiare i miei dolcetti Sono previste altre due prove Principessa Ma io voglio riposarmi Mamma mia Potreste riposare Mentre viene allestita All'arena Per la seconda prova E così sia A breve avrà luogo La seconda prova Prima però Vado a consegnarti Premio per il superamento Della prova del fuoco Ah Una coppa d'oro Bene A tra poco Nel frattempo Posso anche curarmi Ah sì Ok Prima che i bardi Possano cantare Delle vostre gesta Sono due le prove Che ancora vattendono La prova dell'acqua È a quanto originale E mai si è vista In altri reami Siete dunque pronto Forestiero Indi andate E che il fato Va si sta Hanno totalmente Cambiato l'arena E ora Che non ho messo Un pokemon Elettro davanti Per comodità Probabilmente Ci sarà un pokemon D'acqua sicuro È il momento Della prova dell'acqua Ecco il regola Ehi giullare Quella tua stupida danza Mi dà sui nervi Obbedisco Principessa Meno male Guarda Questa volta Ti do ragione Cara Armando Nella prova dell'acqua È richiesto Una dimostrazione Di abilità nella pesca Tramite il recupero Di un oggetto Situato sul fondo Del lago Attenzione Questo lago È infestato Da gli honchen Gli honchen Abboccando al lamo Strappano via La lenza Armando Basta chiacchiere Che la prova dell'acqua Abbia inizio Sicuramente Me la sbaglierò Tipo dieci volte Ne sono quasi sicuro Sono pronto a sbagliare Però Però Oh Come l'ho superato Quello non lo so No Ma dai Ho sbattuto contro Qualcosa Vuoi riprovare? È certo che voglio riprovare Caro E ti pensi che non voglio riprovare? Non lo so Stavo arrivando alla fine Ero ormai sicuro Di avercela fatta Quando sbatto contro qualcosa No Senti Ma cosa Strappavi la lenza Ormai ci siamo Ragazzi Ce l'abbiamo fatta Solo cinque tentativi Link ottiene Cucchiaino d'oro E vai così Ragazzi Questo signore Ha superato anche Quest'altra prova Signore Mio Dio Manco avessi cinquant'anni E ora che si fa Armando? Il pretendente Si sottoporrà Alla prova della foglia Al termine della quale Fronteggerà voi Principessa È consigliato dunque Che si prepari alla lotta Uffa E va bene Vorrei dire che mi preparerò La terza ed ultima prova Avrà luogo a breve Quindi foglia Mi fa pensare al fuoco Allora io che faccio? Io sono bravo E metto Banni davanti È giusto no? Le vostre pratezze Giornicheggiano per El Dio e tutta Ma ora di tutte le prove La più ardua battende Siete pronti a cimentarvi Nella prova della foglia? Indi andate E chi il fatto Bassista? Uh Non vedo l'ora Di avere dei bardi Che cantano per me Le mie gesta Cioè che cantano Delle mie gesta E magari le cantano E magari le cantano Anche per me Devo trovare tipo La principessa In questo labirinto? Oppure incontro Un minotauro Ah un cavaliere Preparatevi a combattere Che vi ho fatto Bassista Sì vabbè Oramai è ripetitiva Sta cosa Dunque Aveva un chigami Il cavaliere Che stava qui sopra E chigami Non è debole Al tipo lotta Quindi è sicuramente Un pokemon volante O comunque Un pokemon Che resista Al tipo lotta Vediamo un po' Qui se questa è la strada Oh A quanto pare Prova della foglia Superata Prima di poter Affrontare la principessa È tuttavia Prevista una lotta Col sottoscritto Or dunque Procediamo Con quanto appena Menzionato E allora Parla di meno Questo è lurch Dai Armando Non ambrogio Maggiordamo Ambrogio Alfred Folletto Ah Tipo folletto Abbiamo qui Allora Quindi Con il tipo fuoco Ah Allora Cigami era folletto Ok Bene Beh Con il tipo fuoco Siamo protetti In teoria Folletto Folletto Sì perché dai È rosa Non può essere Psico Dai Cioè Reindeer Sì ma Quello Quello smirgol Che abbiamo visto Prima No Non può essere Psico Dai Oddio sì Però no Vediamo un po' Se è tipo Solo Folletto O anche tipo Erba Perché mi ha fatto Foglie lama Solo folletto Vola poi Quindi per forza È tipo volante Quasi per forza È stata facile Come lotta Interessante Stile di lotta Ora ti attende Solo la sfida Con la principessa Per di qua Sì prima mi curo I pokemon Endevar davanti Come se non ci fosse Un domani Il maggiordomo Sta qui Impongono una lotta Contro la principessa Le procedure Lei è incazzatissima Pare Oh Quindi Ok Tipo Polletto assicurato Però Ha due Edge Ha un knowledge Ho due blade Wow Quindi avresti superato Tutte le prove Non credere di riuscire A battere me La principessa Prima di iniziare Però Consegnami la coppa d'oro E il cucchiaio d'oro Ora posso finalmente Papparmi il mio bel celato Delizioso Con la pancia piena di dolci Si combatte meglio sai Non è vero mai I miei pokemon dolci e carini Ti daranno una bella Scarica di zuccheri Preparati a perdere Con Mimosa La principessa Del regno di Virgopoli Incazzatissima La musica è troppo bella Mi dispiace ma Il pogo È tipo folletto Facciamo Promi Ah no niente Devo aspettare Furtivo ombra Ok teniamocelo Promines Subban Ti ho deluso Endevar Mi dispiace Mi hai tolto 30 PS Potti potti Prima con Furtivo ombra Fa male Ok Eccolo qua Il vero Promines Subban Brutto colpo Dunque Lei con Furtivo ombra Colpisce prima Io vorrei fare attacco Rapido Di proprio di prepotenza A che pro Tenermelo Furtivo ombra Mi prendo il danno Da tutti Tranne che da Banni Perché ha spettro Furtivo ombra Banni È lot Normale Quindi il tipo Normale Annulla Il tipo Spettro Magi Brillio Ma ti pare Cioè Tu dimmi come Tu dimmi come Se siamo più veloci Però Ah perché Privazione E' vero Protegge Più veloce Lei Va bene Si è giocata La super Pozza Si è giocata La super Pozza Ok Io mi aspettavo Furtivo ombra Però eh Non è per dire Niente Masaku Tianlong Drago Elettro Andiamo un po' A Masaku Che gli facciamo Con Masaku Coleomorso Contro il folletto Quello era Psico Proviamoci un po' Amica mi ricordo Tutte le debolezze Del folletto No Non gli fa nulla Accidenti Ma Da nulla Quanto fa Maggi Brillio Poco In effetti Allora Faccio Che faccio Scoppiare Masaku Non importa Non importa Se scoppia Però va bene Lo tengo come Foraggio A questo punto Se non mi facesse Tutto quanto Questo botto Di danni Potrei curarlo E Giocarmelo meglio Ma A questo punto Lo so C'è C'è un folletto In campo Lui è tipo Drago In teoria Sono più Veloce Ti scordi che mi prendo Maggi Brillio in faccia Te lo scordi proprio Non ci pensare Neanche Sto so Scemo Non ho capito Dunque Lei ha tossina Ma anche Furtiva ombra Che mi farebbe Un maleboia Contro Phantom Quindi Posso ancora Giostrarmela Proprio Tranquillamente Fa male Poi sto Mimicchio Fa molto male Meno male Che non è una carineria Se no Mi distruggevo Ti prego Paralizza 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 Quanto male Deve fare Un Mimicchio Allora Si è giocata Le due super pozioni La tipa qua Ti prego Non ha fatto Comunque Furtiva ombra Perché se no Mi diceva Che attaccava Quindi ho paralizzato Attaccava Sempre prima lui andava Quindi Bene A smirgol Teniamo Sharkbird Come foraggio Oh però Ha resistito Bravo smirgol Posso curarlo Allora Se magi brillo Non fa così male Come pensavo Posso curarlo Oh Una super pozione No Perché non Ah ce l'ho Invece Penso di non averci Dico Infatti Dico Ma l'ho comprata E poi non l'ho vista Nello zaino Prima Qualcosa Frustata Per quale ragione Era assalto Però gli ha fatto male Mi fa frustata Non so per quale ragione Però è in linea Col fatto che appunto Abbia la frusta Per sbattere le uova Con Per i dolci appunto Signori miei Questa lotta È piuttosto vinta Direi Potrebbe curarlo Ah Non lo cura Però mi sa Perché si è giocata Due super pozioni Su Mimichu Che stava in fin di vita Quindi O se le è finite O comunque sia Non lo so Perché è andato K.O Slurpuff Allora Slurpuff pure Lo paralizziamo Ma era una Master Ball Quella che ho visto Era molto strana Brutto colpo Solo Solo brutto colpo Me l'hai distrutto Ok Si protegge Dalle attacchi speciali Va bene Va bene Io intanto Mi nascondo Sott'acqua E Poi Riemergo Al turno successivo Per farti male Me la gioco Ancora così Magi brilli Ok Quanto danno fa Perché ho attaccato Prima io E non lei Perché ho attaccato Prima io E non lei Perché stiamo In speed tie Ragazzi Buona va Buona No 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 Aspetta Devo Devo dire un attimo Una cosa Prima Si Lui attacco Rapido Si 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 Allora Allora Calma Rimedi Revitalizzante Max Lo usiamo Su Endevar Perché Attacco Rapido Ha fatto Rimonto Ancora una volta Mi prende Per i fondelli Il computer Prevede Prevede Quello Che farai Ne sono Quasi Sicuro Ora Con attacco Rapido Penso Che Ce la Finiamo Oh Accidenti Però Ma io sono La principessa E io no Ho proprio perso Questa volta però non fregnerò Sono una principessa E una capopalestra Non posso permettermi Comportamenti La bambina viziata Se voglio ricoprire Questi due ruoli E ho capito tutto questo Grazie alla grinta E alla passione Conquilotti Link Ho ancora tanto Da imparare come capopalestra Ma sono sicura Che Armando Mi aiuterà Grazie per avermi Aperto gli occhi Link Inizierò a rispettare I miei doveri Così MT94 Magi brillio Ma Te le tuarti Etela Perché la odio È Magi brillio Una mossa che infligge danni E bersaglio emanando Una luce potentissima Inoltre Mi darà anche La medaglia a zucchero Sembra più un dolce Con questa Potrai proseguire La tua avventura D'allenatore Nella regione di Eldiu Mi raccomando Se dovessi trovare Qualche dolcetto Delizioso Sul tuo cammino Sarei felice Di provarlo Ci conto Io no Me ne vado Devo solo Ricordarmi La strada Che ho preso Ora che Possieri tre medaglia Non sei più Un principiante Lo sapevo Che sareste andato Lontano Lo sapere Che io sia Ma a che scopo Lui è Guido La guida Vabbè Si chiama veramente Guido Non sto scherzando Allora Posso proseguire La mia avventura Ma nel prossimo episodio Magari Ragazzi Io come sempre Vi ringrazio Per aver seguito Il video La lotta È stata piuttosto Dura Devo ammetterlo Quel Mimikyu Devastava E quello Slarp A fopure Comunque Sì in descrizione Trovate sempre Il link per Instagram E se ancora Non siete iscritti Al canale Iscrivetevi a noi Ci vediamo Come sempre A prossimo video Bye 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 e